Un momento catartico, tenere il cellulare e mettere questo pezzo sarà una sfida. Aspetta, si trovo col piede. Ti vedo una martellata. Tutto ok, devo mettere lo zoccolino e poi ho finito. Non c'è una parete dritta in questa garage, però lo zoccolino poi dopo copre tutto. È venuto bene. Tutto bene.